Juventus Calciomercato 2011 Ultime notizie, in attesa di sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, conferma di De Neri o uno tra Mancini, Villas Boas e Mazzarri, come si dice in queste settimane? La dirigenza bianconera ha già alcune indicazioni utili per capire cosa manca alla rosa della squadra, reparto per reparto, nonostante le due ultime fastose campagne acquisti, occorreranno degli innesti di peso per poter rendere altamente competitiva una squadra che ha bisogno di tornare a competere per la vittoria dello scudetto e per le finali delle competizioni europee, partiamo dalla difesa, il centrale del Wolfsburg Simon Kjaer, ex Palermo, classe 1989, entra nell'orbita delle attenzioni del dos Giuseppe Marotta su di lui anche la Roma, per il cartellino intero del giocatore danese potrebbero bastare 8-10 milioni di euro, cifra destinata a salire qualora prenderanno vita delle aste, per quanto riguarda il centrocampo, c'è il mancato rinnovo di Riccardo Montolivo con il club della Fiorentina. Sul metronomo italiano ci sono anche gli occhi del Milan, che a fronte dei 12 milioni di euro richiesti per il cartellino del giocatore può offrire una contropartita tecnica non da poco si parla di Emanuelson. La Juventus lavora sulla soluzione Montolivo nell'ottica del rientro di Aquilani in Inghilterra. Due infine i nomi caldi per l'attacco juventino a Bel Hernández 20 anni in forza al Palermo, e l'attaccante francese Benzema del Real Madrid. Per il primo corrono almeno 15 milioni di euro, cifra contrattabile con una contropartita tecnica, mentre per il bomber del Real Madrid c'è l'incognita dei dirigenti spagnoli, ha fatto intenzionate a svalutare il bomber da loro pagato 35 milioni di euro nel 2008.